Oggi esploreremo le allarmanti cause dietro il crescente numero di giovani colpiti dal cancro al colon. Negli ultimi anni si è notato un preoccupante aumento dei casi tra i giovani. Ti incoraggio a seguire questo video di pochi minuti, sono sicuro che troverai questa informazione utile e alla fine sarai felice di averlo fatto. Non è vero che questo accade solo alle persone anziane. Scopri i fattori nascosti che contribuiscono in questa tendenza allarmante e impara strategie di misure di prevenzione efficaci per proteggere la tua salute così come quella dei tuoi familiari e amici. Perché il tumore al colon è così prevalente anche nei giovani? In questo video esamineremo le cause ma anche le possibili soluzioni. Affronteremo il problema della sedentarietà, dell'ereditarietà genetica, dell'alimentazione sbagliata, dell'obesità e del sovrappeso. Vedremo come una corretta alimentazione può aiutare. Esamineremo l'importanza dell'attività fisica. Spiegheremo i vari segni e sintomi da conoscere e i passi da compiere se si sospetta che qualcosa non vada. Il problema della sedentarietà. Molto spesso uno stile di vita sedentario, in cui si trascorre molto tempo davanti al cellulare, al laptop o al computer, può aumentare il rischio di tumore al colon. Perché? Questo stile di vita influisce sulla tua attività fisica e rallenta il tuo metabolismo. La sedentarietà è negativa per il metabolismo perché il nostro corpo è stato progettato per essere attivo. Quando ci muoviamo o bruciamo calorie per svolgere le attività quotidiane, manteniamo quindi funzioni vitali. La sedentarietà può quindi aumentare il rischio di tumori perché contribuisce all'accumulo visibile di grasso colporeo, di grasso nocivo non visibile, che può avvolgere quindi organi vitali e all'infiammazione cronica, in parte causata anche dagli snack e dal junk food che forse consumi. L'attività fisica aiuta a regolare il peso colporeo, a bruciare i grassi nocivi e a ridurre l'infiammazione, fattori importanti nella prevenzione del cancro. Quando si è sedentare il nostro corpo potrebbe avere difficoltà a controllare questi fattori chiave, aumentando quindi il rischio di sviluppare tumori nel tempo. Ereditarietà genetica Sicuramente avrai sentito parlare di come l'ereditarietà genetica possa essere una causa di tumori e questo è certamente vero. Tuttavia, tra almeno due decenni si sa che la nutrigenomica e l'epigenetica possono fare la differenza. Non ti voglio annoiare con spiegazioni complesse, ma è essenziale che tu capisca almeno questo concetto e cercherò di essere breve, semplice e al punto. La scienza della nutrigenomica si concentra su come i nutrimenti interagiscono con i geni attraverso la dieta, mentre l'epigenetica si occupa delle modifiche chimiche che possono influenzare l'espressione del nostro DNA. Entrambe queste discipline confermano fondamentalmente che, simile all'ambiente, anche il nostro stile di vita e la nostra alimentazione possono influenzare la nostra salute e il nostro benessere, influenzando quindi positivamente la nostra genetica. Quindi, ciò che mangi è di vitale importanza. Un'alimentazione ricca di cibi processati, grassi saturi e zuccheri aggiunti non può mantenerti in salute, è biochimicamente impossibile. Questi alimenti altamente trattati e contenenti ingredienti chimici, artificiali, additivi, coloranti, conservanti, grassi trans o idrogenati, causano infiammazione, alterazioni molecolari e contribuiscono nel tempo allo sviluppo di malattie cardiovascolari, ictus e tumori, come quello al colon. Pertanto, fai attenzione ai cibi junk food o cibi spazzatura o ai componenti spazzatura, specialmente quelli nascosti. Perciò controlla sempre le etichette alimentari. Capisco che in certi casi sono pratici e veloci da consumare, ma il problema rimane. Quello che mangi deve essere prima di tutto naturale, sano e nutriente, altrimenti ne pagherai le conseguenze più tardi. È biochimica, funziona così, ma ne parleremo in dettaglio tra poco. L'obesità e il sovrappeso contano. L'obesità e il sovrappeso sono seri fattori di rischio, noto per il tumore, ma non solo. L'aumento di peso, come beh è solo un po' di pancia, non c'è problema, può avere un impatto negativo sui processi metabolici e favorire con il tempo la crescita del tumore del colone. Quindi è fondamentale riflettere sul tuo stile di vita, sulle tue scelte alimentari e sulle scelte dei tuoi amici. Non lasciarti influenzare. Prendere pecazioni adesso può fare la differenza per il tuo benessere futuro. Alimentazione equilibrata Un'alimentazione equilibrata e cibi salutari sono essenziali, lo sappiamo tutti. Scegliere alimenti ricchi di fibre come verdura, frutta, cereali integrali, proteine, pesci, legumi è fondamentale per ridurre il rischio di tumore al colone e contrastare quindi le cellule tumorali. Le fibre, i probiotici, i prebiotici, i polifenoli promuovono la salute del colone, supportano il microbiota nell'intestino e mantengono la regolarità intestinale, molto importante. Gli omega 3, presenti ad esempio in alcuni pesci grassi, possono ridurre l'infiammazione e sostenere il tuo sistema immunitario. Tutti questi alimenti forniscono antiossidanti, sostanze antinfiammatorie e nutrimenti essenziali per incoraggiare la digestione e la salute dell'intestino tenue e del colon. Inoltre è importante limitare i fattori di rischio, abbiamo già parlato del tipico junk food o cibo spazzatura, ma ci sono altri cibi da considerare. Da alcuni anni la eArch, l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, ha elencato le carni rosse lavorate come i wuster e gli hot dogs come potenziali alimenti contenenti sostanze conservanti cancerogene. Ridurre quindi il consumo di questi tipi di cibi può contribuire significativamente alla prevenzione del tumore al colon. Attenzione quindi al contenuto dei tuoi panini. Inoltre, se questo è il tuo caso, limitare l'assunzione di alcol e smettere di fumare sono ulteriori passi importanti che puoi fare. Mantieni un'attività fisica Mantenere un'attività fisica è uno stile di vita attivo, è essenziale per la prevenzione del tumore al colon. L'esercizio regolare stimola il sistema immunitario e promuove un intestino sano. Pratica sport, nuota, gioca a tennis, usa la bicicletta, corri, insomma, rimanere attivi può contribuire notevolmente alla prevenzione del tumore al colon. Sintomi da non ignorare Se hai dolori, gonfiore e cambiamenti persistenti nell'area addominale, non sottovalutarli. Questi possono essere sintomi di un problema sottostante, tra cui disturbi intestinali e rettali. La perdita di sangue rettale o di sangue nelle feci può essere un sintomo serio. Anche se potrebbe sembrarti imbarazzante, è fondamentale discuterne con il tuo medico. Se notti modifiche nelle tue abitudini intestinali, come per esempio diarrea, costipazione persistente, è importante tenerle sotto controllo e parlarne con il tuo medico. È essenziale quindi essere consapevoli di sintomi insoliti che potrebbero essere collegati al tumore, al colon. Non ignorare questi segnali e sottoponiti a controlli appropriati per una diagnosi precoce e un trattamento tempestivo. Passi da fare Come abbiamo già detto, quindi se hai sintomi, consulta il tuo medico, senza rimandare. Non posticipare una visita medica se hai sintomi che ti preoccupano. Non vale la pena. Il tuo medico può condurre un esame fisico e prescrivere ulteriori analisi. Ad esempio, esiste il test dell'omoglobina fecale o test del sangue occulto nelle feci, che puoi effettuare comodamente da casa. Inoltre, ci sono specifici esami del sangue. Questi test possono rilevare marcatori che potrebbero essere indicativi di problemi intestinali specifici. Infine, c'è la colonoscopia. Nei casi in cui i sintomi restano sospetti consistenti, potrebbe essere necessaria quindi una colonoscopia. Questo esame virtuale dell'intestino grasso o colon può rilevare eventuali anomalie. Non è doloroso, perciò non preoccuparti. Ok? L'importanza della tempestività È fondamentale comprendere che il tumore al colon è una malattia grave e potenzialmente letale. Non permettere all'ansia o al possibile imbarazzo di ostacolare la tua risposta a questi problemi. La tempestività è la chiave per una diagnosi precoce e un trattamento efficace. Non ti scoraggiare, quindi. Un appello ai giovani A te, ai tuoi amici e le tue amiche vorrei dire questo. Se avete sintomi come quelli menzionati in precedenza, non abbiate paura di affrontarli. Non c'è nulla di imbarazzante nell'occuparsi della propria salute. Al contrario, è segno di intelligenza e saggezza. Il tumore al colon non fa distinzione di età né di persone, come si suol dire, non guarda in faccia a nessuno. E la prevenzione è cruciale per tutti. Non aspettate, quindi, troppo tempo. Cercate subito aiuto se avete sintomi strani, insoliti e persistenti. In conclusione, la salute è una priorità assoluta nella vita. Lo sappiamo tutti. E purtroppo il tumore al colon nei giovani sta diventando un problema sempre più diffuso e preoccupante. Tuttavia, la prevenzione è possibile. Adotta quindi uno stile di vita sano basato su un'alimentazione equilibrata e sull'attività fisica, poiché questi fattori potrebbero essere fondamentali nel ridurre il rischio di questa malattia. Alimenti come verdure crucifere, cibi ricchi di fibre, prebiotici, probiotici, polifenoli e le fonti di Omega 3 possono agire da veri e propri alleati per la salute. Evita i cibi spazzatura come se fossero veleno, in modo da sostenere il tuo sistema immunitario nella lotta contro i tumori. il cancro. Mangia cibi veri, sani, salutari e nutrienti. Non ignorare segnali strali nell'addome o sintomi come la perdita di sangue rettale. Parlane con il tuo medico. Sottoponiti ai giusti controlli e affrontali e affronta il problema senza esitazione. La diagnosi precoce può fare la differenza tra una situazione trattabile e una molto, molto critica. Non lasciare che la paura o la vergogna ti trattengano. Se pensi che questo sia il tuo caso, agisci subito. Spero che questo video ti sia stato d'aiuto e ti abbia motivato a rivedere le tue priorità. Se hai trovato queste informazioni utili, non dimenticare di iscriverti al canale. Metti un like, attiva la campanella delle notifiche qui sopra e condividi questo contenuto con i tuoi familiari e amici. A proposito, dai un'occhiata al video qui sopra che spiega come supportare il microbiota intestinale assolutamente fondamentale per preservare un colon sano.